quando c'è mister fantasy tutti sono contenti che c'è quando lui non c'è tutti sono tristi fantastico oh buongiorno benvenuti bambini allo spazio di mister fantasy ciao a tutti piccolini allora oggi abbiamo una nuova rubrica la letterina del cuore a mister fantasy sigla lette lette letterinaina letterina del cuore a mister fantasy ma chi gli scrive ste sigla allora bene prendiamo le letterine di oggi vediamo chi ci scrive eh sì allora vediamolo caro mister fantasy sono federico da verona ciao piccolo federico perché quando a casa mia il lavandino perde la mamma chiama l'idraulico ma il lavandino continua a perdere oh caro federichino allora e ci sono tanti motivi per cui un lavandino perde e ci stanno pure tanti motivi per cui un idraulico viene a casa da tua madre diciamo ecco e comunque tu fai una cosa per stare tranquillo quando il lavandino perde tu dili a mamma di chiamare due idraulici capito tesoro così almeno uno si fa al lavandino ma mister fantasy non si può dire si vabbè comunque si si può dire comunque allora piccolo federico se poi continua a avere problemi la mamma tu dammi l'indirizzo di mamma che vengo io a casa capito gli spiego due cose gli metto apposta il sifone sigla vieni vieni che così mi fai i video fantastico 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 fantastico